L'Abruzzo rimane zona gialla. Il ministro della salute Roberto Speranza ha respinto la richiesta del governatore Marco Marsilio di anticipare la zona bianca. Da lunedì le uniche regioni senza restrizioni saranno Molise, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. E dal 7 giugno invece che anche l'Abruzzo diventerà zona bianca insieme a Veneto, Liguria e Umbria. Oggi intanto sono 43 i nuovi casi di covid nella nostra regione. Il più giovane tra i contagiati ha un anno, il più anziano ne ha 91. Di questi 13 sono residenti in provincia dell'Aquila e altrettanti in quella di Chieti. 11 sono del Teramano e 6 del Pescarese. E' quanto emerso dall'analisi di 3.225 tamponi molecolari per un tasso di positività dell'1,3%. Tra i morti uno dei decessi è avvenuto nei giorni scorsi ma è stato aggiunto oggi al registro delle 2.478 vittime. Con gli ultimi 155 guariti attualmente in Abruzzo sono 5.504 i positivi accertati, 115 in meno rispetto a ieri. Di questi 146 pazienti, 15 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. 17 sono quelli ancora in terapia intensiva, mentre gli altri 5.341 positivi accertati, 100 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con una sorveglianza attiva da parte delle ASL.